Il Comune dell'Aquila accelera sul percorso di stabilizzazione dei precari della ricostruzione, professionalità che da anni operano ormai al servizio della ricostruzione della città dell'Aquila, ma anche dei comuni del cratere sismico. Una lotta al precariato che l'amministrazione guidata da Pierluigi Biondi ha iniziato ormai sin dal 2017, anno del loro insediamento. Il Comune ora, come ulteriore passo, ha inviato una nota con annesso modulo al Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i dati di tutti i dipendenti che attualmente sono in servizio al Comune, all'USRC e all'USRA, per accedere in questo modo ai fondi del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori. Con il decreto legge agosto ci fu una parziale apertura nei confronti di 70 lavoratori di Comune, USRA e USRC. Il Comune, come si ricorderà, si propose come soggetto attuatore per velocizzare il tutto. In Parlamento poi si è riuscita ad ottenere le coperture finanziarie con la legge di bilancio. A marzo è stata invece inviata la ricognizione del personale e ora si dà seguito a quanto concordato dal Comune con il Ministro Brunetta, con il quale si fece una sorta di roadmap. Nel 2017, hanno ricordato il Sindaco Biondi, l'assessore Bergamotto e il segretario Luzzetti, quando si è insediata l'amministrazione a Guida Biondi, c'erano 99 unità tra Comune e Ufficio Speciale della Ricostruzione. Metà di questi oggi sono a tempo indeterminato, come sono stati inseriti stabilmente nella dotazione dei Comuni 128 lavoratori ripa, vincitori del cosiddetto concorsone. La stabilizzazione è necessaria per l'ente per coprire l'intero fabbisogno della pianta organica del Comune. L'amministrazione comunale, nell'ottica della trasparenza, oltre all'invio dei dati, ha precisato anche che intende procedere con avviso pubblico.